Ok, vedi il carro nemico, Filippo? A 182, ragazzi, il carro nemico Sì, sì, lo vedo, lo vedo FOB su di me, Marcom, ci stanno gli ammo grid Fermo attivo, metto C'è anche l'hub, hub su di me Sembra non essere i contatti per il momento Ed è pulito l'edificio La FOB non è qui, c'è solo l'hub Salta su di me Salta su di me Salta su di me Contatti al mio 330 a nord dove Affermativa Occhio La neve Una giù Occhio, regà Ok, non anti-techs, devo cercare di trovare un carro Quanti 662, eh? Si giù Si, sto ritirando Guarda, guarda Neon Granada, occhio 1 oltre il tumore a terra non alzarti ok ragazzi mettiamo dietro tocca a terra cerchiamo in tre ore su domi strusciamo l'arbre è stato riattivato eh si l'arbre è riattivato 2236 negativo andiamo alleati all'interno che succede qua? standard spawna la fob in Charlie 7 ok ok avvicinamento da nord affermativo giù dai a temperatura stronza c'è un cecchino bro bro piazzato al candorado eh tocca svegli svegli c'è un salacco giù 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 no 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 non possiamo fare un cazzo magari magari ser riesce ma occhio che c'è un cedondragono forse era meglio affiancheggiarli proseguendo per il fiume non spacchiamo ma niente arriva anche davanti di barra a favore che gli altri ripetitano ci prova ok io sono con gli altri questo ci spara dalla città questo ci spara dalla città non so dov'è sento solamente il dragon of che schicchiora ma non so grazie leo è troppo lontano dobbiamo toglierla sta fob arriva arriva la fob è di fronte vai gobron cominci a spostare no no tranquillo tranquilli eliminati i contatti guarda 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 ti riesco a rispondare se mi riesco a blindare io sto spandando ti bendo grande 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 intanto continuo allevare cosa è D'accordo. 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 D'accordo.